Il ruolo di Napoli è da sempre un ruolo centrale perché il mezzogiorno riprende e diventa funzionale al sistema paese se e solo se viene trainato da Napoli. Questo lo riconoscono tutti gli economisti ma per densità, per dimensione, per centralità, per la logistica che conta a parte da Napoli gli hub sono nella nostra città.